buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv e buon inizio settimana staremo insieme per tutta la settimana per evidenziare le notizie del giorno con il Corriere Adriatico e il resto del Carlino per quanto riguarda le notizie di carattere locale sogliamo subito l'almanacco del giorno per vedere che si festeggia oggi ebbene oggi lo ripeto spesso comunque oggi è veramente un grande santo Sant'Agostino Sant'Agostino il santo di Tagaste di Pona in Africa di Milano il santo degli Agostiniani il dottore della chiesa discepolo di Sant'Ambrogio vescovo combatté con forza le eresie che si alternavano durante i primi anni del cristianesimo quando il cristianesimo era stato liberalizzato da Costantino e compose una delle quattro regole fondamentali dello stato religioso un grande santo figlio di una santa Santa Monica che si venera ancora oggi Santa Monica morì a Ostia mentre stava tornando in Africa e quindi madre e figlio sugli altari della chiesa le previsioni del tempo ecco la grafica qualcosa sta cambiando rispetto al sole che punteggiava tutta la regione nella settimana scorsa il tempo è rapido peggioramento dal mattino con piogge a carattere sparso e intermittente fino a sera già questa mattina su Fano cadeva una leggera pioggerellina temperature dunque sono in calo speriamo che si respiri i venti sulle coste spireranno da una tensione media da sud ovest così come nell'entroterra e per quanto riguarda le temperature ancora il termometro segna 31 gradi ma nel corso della giornata la massima dovrebbe leggermente diminuire la minima si è testata sui 23 gradi e ciò detto passiamo alla lettura dei giornali a partire dalla prima pagina del resto del Carlino in cui vediamo il riassunto appunto delle cinque province marchigiane vediamo subito la pagina di Pesaro Urbino varicato anzi in casa si arrende dopo 18 ore e viene ricoverato ebbene un albanese che aveva delle disfunzioni di carattere psichiatrico che è stato appunto arrestato dopo una lunga trattativa che si è protratta assai un giorno e una notte prima di riuscire a prenderlo parlavo di algerino perché veramente oggi la cronaca è veramente piena di fatti particolarmente drammatici e un algerino è stato l'interprete di un assassino che si è verificato in Ancona nella strada verso Sirolo vi racconto poi i fatti continuiamo a Pesaro allarme senza Bolkestein sono a rischio i fondi del PNRR un allarme che viene appunto dai concessionari di spiaggia mentre per quanto riguarda la sanità si è raggiunta una decisione importante il centrodestra di Pesaro dichiara che pediatria non si sposterà a Fano dopo il movimento di protesta che è sorto per evitare il trasferimento del reparto il centrodestra arretra la sua posizione e dice no non ci sarà alcun cambiamento e forse le voci che si sono propagate non sono nemmeno vere vediamo ora a Ancona lite tra automobilisti ucciso con la fiocina veramente un episodio tremendo follia in strada a Sirolo un operaio di 23 anni colpito a morte una lite per la strada pensate una macchina si ferma a una rotatoria quella dietro strombazza perché vuole passare la macchina che si era fermata era un po' indecisa non conosceva bene la strada la guidatrice era una donna ebbene l'uomo scende comincia a inveire contro appunto gli occupanti di questa macchina scende per strada anche l'occupante era un uomo che era interno alla macchina viene aggredito la macchina ancora dietro aveva dei compagni dell'uomo i quali scendono ebbene l'algerino che aveva inveito allora reagisce in maniera inconsulta prende una fioccina e spara veramente quello che è stato il proiettile nel petto dell'uomo che gli stava di fronte e poi l'inseguimento della polizia e l'arresto di quest'ultimo nella spiaggia veramente una cosa drammatica veniamo alle altre notizie a Rione Adriatico scoppia una tubatura e procura molti molti danni strade allegate e il quartiere resta secco per ore a Senigallia è accaduto un incidente su un pescareccio due ostionati uno è grave vediamo anche le notizie di Ascoli Piceno tra turismo e religione bagno di folla alla Madonna dell'Ambro a Porto Sant'Elpidio tutto esaurito divertimento alla notte piurosa siamo alla fine di agosto è ancora il periodo estivo le vacanze ancora continuano prima che inizi l'anno scolastico e poi un fatto di cronaca segue un'anziana e le ruba la borsa dall'auto e va a processo a San Benedetto la Movida si trasforma in episodi violenti una coppia di abruzzesi pestata a sangue proprio in centro e per quanto riguarda Macerata la cronaca non ne lascia tregua ladri in azione a Coridonia rubano l'auto e fuggano caccia alla banda e ancora cabina telefonica trasformata in una edicola votiva cingola cingoli fa impazzire i turisti e allora apriamo il resto del Carlino e diamo un'occhiata a come si sviluppano le notizie che erano state riassunte in prima pagina vediamo il fatto di pediatria il centro-destra pediatria non si sposta lo ha dichiarato questo ovviamente solleva un po' tutte le preoccupazioni che le mamme hanno nutrito perché privare un reparto così fondamentale come quello di pediatria dove si curano i bambini e nel centro di Pesaro è stato veramente un dramma come lo è poi in tutti quei centri in cui si sopprimono i reparti lo era anche per Fano quando i reparti sono stati trasferiti a Pesaro il gruppo di opposizione a Pesaro tranquillizza il gruppo di opposizione sarebbe Fratelli d'Italia tranquillizza chi ha protestato contro l'ipotesi del trasferimento e ribadisce la regione non lo farà se alleggiava un dubbio il centro-destra consigliare di Pesaro lo ha sgombrato ieri con una nota i reparti di pediatria e ginecologia dell'ospedale San Salvatore non si toccano nessun spostamento di servizi primari per i bambini sarà preso in considerazione hanno detto appunto gli esponenti del centro-destra e poi altre preoccupazioni nutrono invece i concessionari di spiaggia per quella spada di Damocle che incombe su di loro ormai da diverso tempo e si tratta della direttiva Bolkestein Bolkestein e concessioni a rischio i fondi del PNRR se ancora grava sulle spalle dei concessionari questa direttiva che impone poi che le concessioni debbano andare a gara ovviamente nessuno fa gli investimenti e anche i fondi del PNRR sono a rischio vediamo come introduce Maurizio Gennari questo articolo i fondi del PNRR destinati anche a Pesaro sono a rischio per la mancata applicazione della direttiva Bolkestein lo annuncia il consigliere comunale Giovanni Dall'Asta dopo aver ricevuto notizie certe da Bruxelles insomma una specie di forzatura l'Unione Europea dice Italia o tu applichi la Bolkestein oppure fai a meno dei finanziamenti del PNRR insomma bisogna bisogna accettare sia le cose buone che le cose meno buone ed ora diamo un'occhiata invece all'albanese che ha tenuto in scacco veramente le forze dell'ordine per tanto tempo le quali hanno agito con prudenza per evitare che questo episodio si trasformasse in tragedia Erald ovvero l'albanese si arrende dopo 18 ore ricoverato d'urgenza in psichiatria è un 38enne di Morciola che si era varicato in casa alla vista dei carabinieri che erano giunti per applicare un TSO ovvero un trattamento sanitario obbligatorio insomma dovevano ricoverarlo insomma in psichiatria aveva minacciato di gettarsi dal balcone e di fare saltare la casa in ospedale ha anche insultato i sanitari ebbene ci sono volute 18 ore per convincere questo immigrato a uscire di casa l'aveva chiesto lui stesso perché si stava preoccupando del proprio cane doveva uscire in casa per fare i bisogni e quindi lui ha ha traccheggiato con le forze di polizia dicendo fatemi uscire poi fatemi rientrare allora la polizia ha finto di accettare questa proposta ma appena è uscito lo ha bloccato e l'ha condotto all'ospedale è un'incredibile sceneggiata quella di Herald P 38 anni di origine albanese di Morciola disoccupato con evidenti problemi psichici alle 9.15 di ieri mattina ha accettato l'offerta dei carabinieri di far fare un giro col suo cane dopo averlo tenuto in casa per così tanto tempo ebbene alla fine è stato arrestato ma ci è voluto veramente del buono della ferma determinazione appunto delle forze dell'ordine per risolvere senza drammi questa situazione perché poi erano preoccupate anche le famiglie del palazzo dove il 38enne si era barricato i quali chiedevano allo Stato appunto di proteggerle e per sicurezza era stata staccata sia la luce che il gas e vigie del fuoco avevano steso anche un materasso gonfiabile perché per evitare che lui si gettasse insomma era in preda veramente a una situazione psichica molto molto preoccupante per quanto riguarda Fano invece si parla della conclusione della fiera di San Bartolomeo un evento che ha suscitato plausi ma anche qualche discordanza e oggi interviene l'assessore agli eventi l'assessore anche alle realtà produttive al commercio Etienne Lucarelli il quale dice che il consuntivo tutto sommato è stato un consuntivo soddisfacente le operazioni di cambiamento che sono state effettuate sono state produttive e non si torna indietro perché dopo aver consultato gli operatori a posto fisso le associazioni di categoria e tratte da essi un giudizio soddisfacente ovviamente l'esperimento ormai ha determinato secondo appunto Lucarelli effetti positivi meno convinti della riuscita sono stati gli ambulanti gli istandisti che lamentano incassi minori ma se uno incassa di meno ovviamente non è la colpa dell'amministrazione comunale dice Lucarelli l'andamento del mercato non lo fa il comune e se i consumatori spendono di meno la situazione è perché c'è una crisi incombente e quindi è il mercato che determina queste situazioni queste leggi noi abbiamo fatto il possibile per cercare di migliorare la fiera che poi ieri sera si è conclusa l'altra sera si è conclusa con un bellissimo spettacolo di fuochi artificiali che mettono in evidenza sia il Corriere Adriatico che il resto delle Carlino e per quanto riguarda le critiche insomma si cerca di mettere sulla bilancia i dati positivi e i dati negativi e secondo Lucarelli i dati positivi hanno la prevalenza un lutto morto lo storico bagnino Spadoni aveva lavorato nelle spiagge libere una malattia purtroppo non gli ha lasciato scampo lascia due figlie domani la cerimonia funebre nella chiesa dei Capuccini a Pesaro alle ore 10 è stato stroncato da una breve letale malattia ai polmoni dopo che aveva lottato veramente tanto con grinta con forza come un leone per cercare di superarla è morto a 65 anni bagnino fanese deceduto all'ospedale di Pesaro molto conosciuto in città dove aveva lavorato per molti anni nelle spiagge libere di Sassonia diamo un'occhiata anche a quanto abbiamo annunciato per Ancona tubatura KO strade legate in centro a quartiere Adriatico senza acqua per ore lo scoppio è avvenuto in via Rismondo sul posto subito recato un'autobotte e il vice sindaco Zini dice colpa di uno sbalzo di pressione che ha veramente fatto scoppiare che ha demolito le tubature e poi c'è il viaggio nel rione danni in garage e case qui è da buttare tutto e ora che ci rimborsa dicono i residenti l'esplosione sul peschereccio che si è verificato nel porto turistico di Senigallia due ustionati uno è grave era una torcia umana paura appunto nel porto turistico Renato Ripanti e un suo marittimo stavano lavorando sotto coperta per fare ripartire la ghiacciaia c'è stato un boato appunto il dramma questo per quanto riguarda il resto delle Carlino diamo un'occhiata ora invece al Corriere Adriatico dove la pagina di Fano è dedicata ad una intervista che è stata rilasciata dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle la capogruppo Marta Ruggeri Marta Ruggeri interviene sulla gestione dei rifiuti che è stata posta alla ribalta recentemente da una conferenza stampa organizzata da tre ex amministratori ve li ricordate li abbiamo annunciata nei giorni scorsi si tratta dell'eurodeputato ex-eurodeputato ovviamente Francesco Baldarelli e degli ex-sindaci Baldarelli stesso Cesare Carnaroli e del assessore ex-assessore Busca Tiziano Busca sono intervenuti per quanto riguarda la gestione dei rifiuti per risolvere il dopo riceci cioè quello che accadrà dopo che è stata ormai cancellata la soluzione di fare una nuova discarica nelle colline di riceci è un problema importante prossimano ci saranno le elezioni amministrative il tema della gestione dei rifiuti e il tema della risorsa idrica costituisce un tema importante su cui si giocherà il confronto tra le forze politiche vediamo ora qual è la posizione del Movimento 5 Stelle così come viene annunciata da Marta Ruggeri noi dice Ruggeri abbiamo individuato la strada della creazione di due ambiti territoriali uno corrispondente alle province di Ancona e Pesaro Marche Nord l'altro alle restanti tre province Marche Sud questa è una soluzione perché nel territorio delineato i gestori pubblici a cui fidare il servizio sarebbero prevalenti resterebbe invece isolata soltanto Marche Multiservizi che costituisce una anomalia nella regione perché l'unica società mista pubblico privato ma qual è dunque l'ostacolo per riuscire a realizzare questo il centrodestra propone un ambito unico regionale cappeggiato dai tecnici così resterebbe aperta la possibilità che le singole province si organizzano in maniera indipendente ovviamente con una decisione con un ambito unico regionale le decisioni sarebbero centralizzate mentre le province avrebbero poca possibilità di manovra e anche il Corriere Adriatico interviene sulla Fiera di San Bartolomeo l'abbiamo annunciato poco fa la sperimentazione positiva ha dichiarato l'assessore Lucarelli il flop non è colpa nostra Fiera di San Bartolomeo l'assessore all'attività Lucarelli replica alle critiche ed è la Fiera di San Bartolomeo che si è conclusa veramente col botto perché i fuochi artificiali oltre a essere rumorosi sono veramente spettacolari hanno dato l'imprimatur ad un evento sostanzialmente positivo ci sono state le proteste ma ovviamente le proteste sono nate da quei operatori che nel loro piccolo ambito si sono sentiti danneggianti per esempio quelli che operano in Viale Dante a Liglieri che è stato completamente sconosciuta dalla Fiera e anche da coloro che operano un po' davanti alla Capiteneria di Porto dove le bancarelle hanno un po' oscurato i loro esercizi ma tutto è migliorabile ha detto Lucarelli se ci sono stati dei problemi ci confronteremo per risolveri e per trovare una soluzione condivisa è stata una sperimentazione e quando si sperimenta si cerca di trovare le cose che non vanno per poi risolverle questo è stato un po' il giudizio dell'assessore rubata la Madonnina adesso riportatela è l'invocazione che il parroco fa a Fossombrone furto bravata o atto sacrilego ebbene in tutto sommato ha determinato sconcerto e delusione a Fossombrone il furto di una Madonnina ma come si fa a rubare una Madonnina dico è una cosa inconcepibile si può rubare qualcosa di prezioso dal punto di vista venale ma una Madonnina è soltanto preziosa dal punto di vista morale etico religioso non porta nessun vantaggio concreto fisico al momento per quanto riguarda chi lo ruba ed è appunto ma che non sia una grande opera d'arte ovviamente ma questa era una Madonnina che veniva apprezzata soltanto per quello che rappresenta idealmente in senso religioso veniamo anche alla pagina di Pergola sulla Val Cesano dove è stato ripristinato con grande soddisfazione della sindaca Simona Guidarelli il depuratore era inattivo dall'alluvione e l'intervento di Marche Multiservizi ha risolto anche questo intervento che era così annoverato tra quelli di massima urgenza sono passati un po' diversi mesi però alla fine l'opera è stata compiuta vediamo anche la pagina di Senigallia del Corriere dove si parla dell'esplosione nel porto turistico della barca due feriti uno recuperato in mare si è gettato come fosse una torcia umana hanno detto i testimoni i marittimi vestiti dalle fiamme sono stati trasferiti nei centri grandi ustionati di Roma e Parma è di due feriti gravi il bilancio di questa esplosione si tratta di Renato Ripanti 38enne senigallese proprietario del Giamaica che si trovava con un suo collaboratore sotto coperta ebbene Sayal Sujan 35enne originario del Bangladesh è stato raggiunto da una fiammata che l'ha avvolto i testimoni hanno visto una torcia umana lanciarsi in acqua sia il proprietario della barca che il suo operaio sono rimasti veramente molto scottati dobbiamo dire da questa situazione e per quanto riguarda Fabriano parliamo anche del museo della carta un museo che merita la visita di tutti i marchigiani perché la carta a Fabriano è veramente un elemento prezioso e fatta con una manualità come si faceva una volta eccezionale e avere anche la carta con la filigrana di Fabriano è veramente un ricordo molto molto bello da giugno a questo museo sono stati annoverati 7700 ingressi molto bene anche la Pinacoteca e l'Oratorio della Carità un'estate da corniciare per il centro marchigiano e diamo ora un'occhiata anche alle prime pagine del Corriere Adriatico dove due pagine addirittura sono dedicate al dramma che si è verificato a Sirolo sulla strada per Sirolo dove appunto una situazione stradale ha determinato il dramma follia all'incrocio ucciso con la fiocina per una lite in strada difendeva un amico aveva solo 23 anni pensare che un ragazzo di 23 anni venga ucciso per una banalissima lite ad un incrocio stradale fa veramente rabbia il dramma a Sirolo per un'auto ferma alla rotatoria pestato un papà aveva anche dei bambini il 23enne lo soccorre e viene colpito il killer algerino fugge catturato in serata a Falconara e in queste foto abbiamo il momento della cattura vediamo qui gli agenti che hanno steso a terra l'algerino e qua lo vediamo in fotografia si tratta di Fatà Malut un algerino qui con una posa da macio come fosse tracotante il quale il quale ha reagito veramente in maniera inconsulta per non dire altro a questa situazione e c'è anche una intervista ad una psicoterapeuta il caldo accende l'istinto killer non c'è limite alla violenza e i social cancellano ogni freno e poi c'è la testimonianza della donna che si era fermata alla rotatoria era un po' indecisa non sapeva che strada prendere ero lenta non conoscevo la strada ha preso mio marito a calci e pugni l'uomo che appunto con la sua auto seguiva era alle spalle dell'auto che si era fermata all'ingresso della rotatoria vediamo la pagina di Pesaro cambiamo ovviamente argomento spesso si parla di turismo si parla di turismo anche oggi e vediamo come il bilancio in modo particolare si sta rilevando positivo per il turismo verde per le presenze nei camping è l'estate dei camping con la rivincita del verde sul fascino della spiaggia giugno in salita anche per l'open air ma l'entroterra conquista anche gli stranieri è stata ed è la lunga estate dei campeggi campeggi sulla costa per fare il bagno ovviamente nelle vicinanze del mare ma anche nell'entroterra dove si code di un paesaggio meraviglioso dove si fanno delle passeggiate e dove spesso si possono assaggiare dei cibi a chilometro zero veramente eccezionali ebbene con questa notizia concludiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre alle 7 di domani e per le notizie del giorno alle 20.30 di questa sera con occhio alla notizia il TG di Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti